allora Deborah allora tu mi dici sta mia dice Nunzio quando tu ti sbrighi con quella signora con la tua follower c'è passa per un caffè ma per chi un caffè cioè oggi è scelta una follower da Roma mi ha offerto colazione aperitivo pranzo merenda mi manca solo la cena tu non sino a me follower e allora perché non mi offri la cena la mia compagnia un po' di cucchiaio il caffè la tua compagnia ma di chi chiede un uomo all'ospiccio lì amò ma di compagnia arrivavo lo sai il valore della mia compagnia certo ma si lo so sai che faccia a me no ma quindi amò la cena che dobbiamo fare dobbiamo mangiare qua certo mangiate qua poi offerta da te io voglio un caffè mi voglio ritirare a casa non è possibile perché ormai si è entrato e devi stare qua ma qua si è andata Loretana che ha accattato i coccionati che è avara Loretana no questo momento è più dolce perché domani fa il compleanno voi approfittate va bene va bene va bene va bene ragazzi a dopo